Higuain, dall'altra parte c'è Callejon, Higuain lo cerca, gran palla, Callejon! Napoli in vantaggio, con Ossè, Maria, Callejon! Marchese, cercare Pinilla in anticipo, Raffaele la manda in calcio d'angolo. L'argo Pinilla, però ti va da Edenilson, altro duello con Zuniga, Edenilson il cross, secondo palo per Pinilla, Raffaele! Ancora lui! Marchese, ancora a cercare Pinilla! E questa volta segna Maurizio Pinilla, debutta così, 1-1. Giorginho, 1-2 con Zuniga, che si chiude, Zuniga in area di rigore, Perin! Ferma il Colombiano! Bella palla dentro per il taglio di Insigne, che può andare? Insigne contro Perin, Insigne! Perin lo ferma, non è ancora finita, Insigne prova di testa, la riprende Perin, che stravince il duello con Insigne. Mertens per Higuain, 1-2, che si chiude, Vadris Mertens in area di rigore, Mertens, Mertens! Arriva anche Mertens, controllo in area, Mertens, Perin con un miracolo, Higuain! Butta dentro il pallone, c'è Higuain, anche Koulibaly, De Guzman la prende, De Guzman! Il gol del Napoli, appena arrivato, De Guzman si presenta così, vince il Napoli, a Genoa, la firma è di De Guzman. Grazie!